Porte aperte per Officina L'Aquila anche nell'aggregato di Via Antinori, la cui ricostruzione è nel pieno. Un aggregato molto vasto in cui si è sperimentato per la messa in sicurezza un tipo di rete particolare. Più di 20 appartamenti e un anno e mezzo ancora prima di poterlo restituire ai proprietari. L'ingegner Subrizi ci spiega tutti gli interventi. Innanzitutto, dalle immagini riuscite a capire che uno degli interventi principali è la posenopera di reti fibrate. Ancora prima di mettere e posare le reti fibrate, gli interventi principali dal punto di vista strutturale sono stati quelli di cuci-scuci, nuovi architravi e successivamente poi è stata posata in opera questa rete fibrata che serve naturalmente a rinforzare murature. Il tutto viene unito naturalmente con questi fiocchi che nel caso poi vengono messe nelle volte, viene fatto un pannello sandwich e con una lavorazione finale tramite delle iniezioni di miscele eleganti che servono ad entrare nel cuore della muratura per andare a iniettare queste miscele che rinforzano la muratura. L'aggregato, se non sbaglio, sono adesso metro più metro meno, dovrebbe essere circa sui 3.000 metri. Sono più di 20 condomini, ha un fronte che supera i 20 metri e tutta la facciata di Via Antinori arriva quasi a 70 metri. I tempi per la ristrutturazione sono circa due anni.